Si avvicina la festa più bella dell'anno, tanto amata da grandi e piccini che riunisce le famiglie attorno all'albero per lo scambio di doni e per trascorrere del tempo in serenità. Per vivere questo momento con gioia e spensieratezza, il comune di Pordenone ha organizzato un Natale a Pordenone ricco di eventi per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sarà un Natale come sempre ricco di eventi e iniziative, ma anche di tante novità e graditi ritorni. Una novità centrale è quella del villaggio natalizio in piazza 20 Settembre, allestito con degli alberi, delle luci e per così dire una grafica che rende l'idea del Natale. Dentro questo villaggio c'è anche un'altra novità, cioè le casette dell'artigianato che si aggiungono a quelle enogastronomiche. Luci tutte a LED per favorire il risparmio energetico, sarà anche un Natale green con gli alberi in centro per allestire la piazza. E poi il servizio baby care per i genitori che vogliono lasciare i bambini e magari andare a fare shopping. Tanta musica, tra le novità anche il gospel e il blues on the road, le street band, le band giovanili e tanti eventi sia in centro che nei quartieri. Noi abbiamo voluto un Natale che superasse la crisi, un Natale che sfida la crisi, le preoccupazioni e dà ossigeno all'economia locale. L'associazione Sviluppo e Territorio da anni insieme al Comune organizza gli eventi natalizi e noi ci occupiamo specificatamente del mercatino di Natale. Quest'anno siamo veramente soddisfatti perché il mercatino di Natale nasce dieci anni fa con il logo Le Casette di Pordenone per promuovere i prodotti del territorio. Quest'anno abbiamo partnership con le migliori aziende enogastronomiche, gastronomiche, enologiche e anche di birre artigianali del territorio. La cartina di Tornasole è che da quest'anno avremo anche sei casette di vendita che negli anni scorsi non volevano esserci ma adesso visto il successo delle casette di Pordenone hanno chiesto di poter venire a Pordenone e poter presentare le loro produzioni. Ovviamente fra le casette di vendita immancabile ci sarà la casetta di bambini autismo che è il nostro partner più caro che abbiamo, al quale ci teniamo veramente tanto e offriranno dei prodotti fatti dai bambini che saranno molto molto belli anche come regalo di Natale. Quest'anno sarà presente una star internazionale della musica funky, pop, soul, jazz che è James Taylor Quartet con i suoi musicisti incredibili. In più il concerto verrà impreziosito anche dalla presenza di una cantante. I DJ set saranno a cura di Steve Giant che farà anche il presentatore della serata, si partirà con un DJ set di musica reggae e world music per concludere con il DJ set e la grande riunione di Lino Lodi e Stefano Mango che dopo tantissimi anni si rimettono assieme replicheranno l'esibizione che tenevano negli anni 90 che li ha portato fortuna a livello nazionale e internazionale. Mancate solo voi, venite a Pordenone perché sarà una bella serata. L'inaugurazione avrà luogo sabato 3 dicembre alle 17.30 in piazza 20 Settembre dove saranno accesi l'albero e le luminarie del centro città. Inoltre sarà ufficialmente aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio e verrà realizzato dai pasticceri della scuola YAL FWG un maxitronchetto di Natale lungo 10 metri che sarà poi distribuito tra tutti i presenti. Infine si esibiranno i cori dei bambini delle scuole della città e seguirà per i più grandi un DJ set con Marco Ossanna. Per informazioni sul programma www.comune.pordenone.it www.comune.it